Opus Latericium, struttura monumentale, grande esempio di architettura romana. L'arco felice vecchio di Pozzuoli, in piedi da quasi 2000 anni, da ieri sera è off-limits a causa di un avvallamento stradale provocato da una consistente perdita d'acqua dalla rete idrica sottostante. Con un'ordinanza urgente emessa ieri, infatti, la provincia ha vietato il transito di auto e bus al di sotto dell'antica porta. Inevitabile la deviazione del traffico veicolare da Pozzuoli e Bacoli verso la zona collinare dello Scalandrone. Il rischio voragine ha mobilitato diverse pattuglie della Polizia Municipale di Pozzuoli e alcuni tecnici del servizio acquedotto, a corsi sul posto per monitorare la situazione. Sotto osservazione, però, anche la staticità del documento, oggetto in passato di cedimenti e crolli della volta superiore. Lo storico arco, infatti, si presenta ricoperto da circa un anno da una rete metallica protettiva che, sebbene nulla abbia a che fare con la maestosa opera voluta dall'imperatore Domiziano nel I secolo d.C., ha consentito fino ad oggi la regolare circolazione dei veicoli che, assicurano dal comune di Pozzuoli, dovrebbe riprendere al più presto.